Incontri nelle scuole, mostre e convegni. Anche a Sciacca sono diverse le iniziative in programma per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi libere sempre è il tema dell'incontro promosso dalla FIDAPA con gli studenti del Liceo Fazzello di Sciacca, che si svolgerà a partire dalle ore 9.30 nell'aula magna dell'istituto, con interventi della dirigente scolastica Giovanna Pisano, della presidente della FIDAPA di Sciacca, Agnese Sinagra, e della psicologa Federica Scaturro. Coinvolgono diverse associazioni e il Comune, i due eventi che si svolgeranno sempre giovedì a Sciacca, alle ore 17, nella Sala Blasco del Palazzo Municipale, l'iniziativa denominata Nemmeno con un Fiore, con interventi di esperti e responsabili di associazioni che si occupano di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza, ma anche teatro-danza. Sempre giovedì, alle 19.30, verrà inaugurata Every Day, 10 donne in mostra. Un'esposizione che rimarrà aperta fino al 5 dicembre nello spazio del Purgatorio di Sciacca, con opere di Rosaria Certa, Vanessa Gallo, Gabriella Lobue, Tania Lombardo, Daniela Lucentini, Giovanna Minagro, Stefana Nizzola, Lucia Stefanetti, Diana Toto ed Elisavella. La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. In molti paesi, tra questi l'Italia, il colore simbolo di questa giornata è il rosso e uno degli oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse da donna a rappresentare le vittime di violenza e femminicidio. Grazie. Grazie. Grazie.